Il restauro di due altari, quello dedicato alla Madonna e quello a San Francesco, ma anche i lavori con il restauro dell'antico refettorio e di parte del chiostro. E' quanto stato realizzato al convento del Beato Sante grazie ad una riqualificazione finanziata dalla Regione Marche con un contributo di 200.000 euro, a cui sono stati aggiunti 12.000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Il resto, inoltre, è stato aggiunto dal Comune di Monbaroccio. Un contributo di 200.000 euro, i cui primi risultati vedremo già nelle celebrazioni di Pasqua con il restauro di due altari, quello dedicato alla Madonna e quello dedicato a San Francesco. Ma poi i lavori proseguiranno con il restauro dell'antico refettorio, ma anche con il restauro di parte del chiostro di questo convento. Quindi la Regione è ben presente qui a Monbaroccio, come vuole essere ben presente, laddove ci sono elementi delle identità, della cultura plurimillenaria della nostra comunità regionale. Mi permetto da subito di ringraziare la Regione Marche, nella figura del Presidente Acquaroi, dell'Assessore Baldelli e dell'Assessore Aguzzi, per l'importante stanziamento che han deciso di portare sul territorio. 200.000 euro che arrivano al Santuario del Beato Sante, atti alla riqualificazione del refettorio, atti alla riqualificazione di altari linea all'interno della chiesa e atti alla riqualificazione del campanile. Una forte sinergia che abbiamo avuto con la Regione Marche, ma soprattutto ed anche con l'Associazione Il Sole nel Cuore, che insieme, in un percorso che condiviso tramite la Fondazione Cassa dei Risparmi di Pesaro, ci ha permesso di fare squadra e di creare un contesto nuovo, che vede il Santuario del Beato Sante, protagonista anche per quello che sarà il percorso Cultura 2024. Quindi 200.000 euro della Regione, 12.000 euro della Fondazione. Quello che abbiamo potuto ce l'abbiamo messo noi come Comune di Monbaroccio per far sì che la bellezza del Beato Sante, viva di propria auge, possa portare allo splendore anche elementi di recupero fondamentali che partono da refettorio, passano per il chiostro e finiscono all'interno della chiesa. Un intervento quello realizzato che arriva in occasione dell'ottocentesimo anno dalla Fondazione del Beato Sante. Noi siamo veramente contenti di vedere questo luogo sempre più bello, quindi ringraziamo di cuore la Regione, il Comune, tutti coloro che ci hanno dato una mano per rendere questo luogo sempre più bello e la gente possa ammirare un luogo così ameno, così bello come il Beato Sante. Quando si lavora insieme si raggiungono gli obiettivi. Da un pranzo di qualche anno fa insieme agli assessori Baldelli e Aguzzi della Regione Marche, che si era parlato della difficoltà e avevamo chiesto un loro aiuto, un intervento della Regione Marche ed ecco qui si è concretizzato finalmente un bel risultato per il nostro bellissimo convento, per i nostri frati francescani, ma soprattutto per le persone, per i tanti pellegrini e per il popolo di Dio che frequenta il santuario e poterlo frequentare vedendo splendere i due bellissimi altari e il refettorio. Poi a breve faremo anche l'inaugurazione degna di come noi volontari sappiamo fare.